E un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, mi spiaggia gli ombrelloni, non ce ne sono più. Eh no, qua mi hanno lasciato da solo tutti quanti, per fortuna c'è il mio amico, lui, il pacco d'affari tuoi. Che vuoi dirmi pacco, eh? Arrivederci! Mi ha lasciato da solo anche lui. E allora, per ritrovarci dopo questa lunga estate, vi do appuntamenti il 12 settembre su Rai 1 con affari tuoi. Speciale in 80, l'estate sta finendo. E certo, siamo pure rimasti soli. Grazie.